E' salito per la prima volta sul tatami all'età di tre anni e non ne è più disceso. Pino Maddaloni da Napoli vince a Sydney la gara più bella. L'ultimo ad arrendersi in finale è il brasiliano Tiago Camilo, 18 anni. E sul podio Maddaloni fa vedere a tutti quanto è bello commuoversi per una medaglia d'oro. E siamo tutti pronti a seguire l'incontro di Pino Maddaloni. Eccolo contro questo Tiago Camilo. Lo guardate in viso è veramente un ragazzino. In ogni caso già la soddisfazione per Pino di essere già argento. 3.40 alla termine di questo incontro, la 3.40 di tempo effettivo. Continua ad attaccare. E viene sanzionato quindi tra un leggero vantaggio. Per Pino Maddaloni un coca, un punticino che potrebbe essere veramente prezioso. Attacca ancora Pino Maddaloni ma a vuoto. Partito subendo. E infatti abbiamo visto sollevare il palmo verso l'alto da parte del giudice. Quindi due punti a zero al momento quando mancano due minuti per Pino Maddaloni. Eccolo! E' Ippon! Pino Maddaloni e medaglia d'oro! Guardate Felice Berliani! Eccolo! Che giudica! Que giudica! Che giudica! Eccolo! Pino Maddaloni e medaglia di Gini! Eccolo! 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 Grazie a tutti.